Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con AC News, il notiziario di Arezzo Channel che vi permette di restare sempre aggiornate sulle vicende del Cavallino e sul campionato di Serie C. Rinviato dunque a data da destinarsi il Consiglio di Amministrazione dell'Arezzo, il Cidiavri abbia dovuto tenersi nella serata di ieri, ma un malanno di stagione ha fermato il Presidente Giorgio Lacava che non ha potuto raggiungere la città di Arezzo. Resta dunque da individuare una nuova data per la riunione a cui prenderanno parte anche il socio di minoranza Massimo Anselmi e il Comitato Orgoglio Amaranto. Le prime indiscrezioni collocano ormai il nuovo Cidia nel corso della prossima settimana tra lunedì 25 febbraio e venerdì 1 marzo, dunque dopo il match casalingo contro l'Olbia. Nessuna ufficialità è però arrivata da Viale Gramsci, si terranno invece oggi come previsto alcuni controlli finanziari ed amministrativi di routine da parte della Covizoc all'interno della sede del Cavallino sui conti del club Amaranto. Cambia il regolamento dei play-out dopo la cancellazione della propria cenza dal campionato di Serie C, modifica almeno in parte il quadro delle retrocessioni in Serie D. Nel girone A scompare infatti la retrocessione diretta dell'ultima classificata, restano invece i play-out che verranno giocati tra quella che doveva essere la penultima e la terzultima, a meno che il distacco tra queste due in classifica non sia superiore agli 8 punti. In tal caso la penultima retrocederebbe direttamente senza giocare lo spareggio. Inoltre proprio con la riduzione delle retrocessioni da 9 a 7 sarà anche previsto un ulteriore spareggio tra le vincenti dei play-out dei gironi A e del girone B. Tutte le gare dei play-out, compreso il play-out incrociato tra i due gironi, verranno giocate secondo la formula delle gare di andata e ritorno a parità di punteggio. A decretare la vincitrice sarà prima la differenza reti e poi successivamente la migliore posizione in classifica. Riprendono intanto oggi gli allenamenti dei ragazzi di Mister Dal Canto dopo le 48 ore di riposo concesse dal tecnico Amaranto, prevista per la giornata di oggi una doppia seduta. L'Arezzo si è allenata questa mattina alle ore 10 sul campo sintetico di Montefeltro, riprenderà il lavoro oggi alle ore 15, sempre nella stessa location. Poi seduta singola alle ore 15, prevista per domani e per venerdì 22. domani pomeridiano alle ore 15, mentre venerdì 22 alle ore 10 e 30, sempre sul sintetico di Buonconte da Montefeltro, rifinitura poi in programma sabato 23 alle ore 15, invece sul campo Mario Lebole. Continuano intanto le prevendite per Arezzo Olbia, che si giocherà domenica prossima 24 febbraio alle ore 14 e 30, tra le mura amiche dello stadio comunale Città di Arezzo. La società Amaranto ha comunicato che l'acquisto del tagliando sarà possibile effettuarlo online presso il sito ufficiale del partner www.spor.ticket1.it e poi presso la tabaccheria del Bagnoro. Da oggi fino alla giornata di sabato 23 febbraio, compresa in orario mattutino dalle 8 alle 13 e poi il pomeriggio dalle 16 alle 19 e 30. Domenica 24, il giorno della gara e la tabaccheria resterà aperta dalle ore 8 alle ore 13, il giorno della partita inoltre alle ore 11 e 30, aprirà anche la biglietteria centrale dello stadio comunale all'angolo tra Viale Gramsci e Viale Giotto. Diamo anche un rapido sguardo alla classifica ormai riscritta dopo la cancellazione della propria cenza, alla vigilia si può dire di quelli che sono i recuperi, le gare di recupero infrasettimanali, abbiamo in testa l'Arezzo in coabitazione a 46 punti con la Virtus Entella che ha da recuperare 5 partite, la Pro Vercelli che ha da recuperarne 3 e il Piacenza con ancora una gara da giocare, poi Siena a 41 con due gare da recuperare, Carrarese e Propatria quota 40, a 39 troviamo il Pisa, poi Novara a 35, Pontedera a 33, 30 punti per il Gozzano, 27 per l'Olbia prossimo avversario dell'Arezzo, 26 punti per Alessandria e Juventus Ander 23, a 24 la Pistoiese, poi il Cuneo a 21 punti, Albissola, Arzachena e Lucchese giù di seguito. Con il mese di febbraio inoltre non si giocheranno, finiscono le partite di domenica per l'Arezzo, la Lega Pro ha anche comunicato le date e i orari delle partite del mese di marzo che vedrà il Girone A iniziare a disputare le proprie gare nella giornata di sabato. L'Arezzo giocherà di sabato a partire da sabato 2 marzo quando disputerà la trasferta in casa del Cuneo alle ore 14.30. Termina qui la prima parte di AC News, noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra pochissimo per continuare a parlare dell'Arezzo con lo spazio dedicato ai nostri ospiti.